Nuova settimana, nuovi problemi. Più si avvicina il termine ultimo del 30 giugno per presentare tutto l'incartamento necessario di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, più la terza serie nazionale perde pezzi, o almeno rischia di perderli. Nell'insieme delle nominate adesso c'è anche il mestre. Per il club veneto, problemi di stadio. Al Vicenza mancano 3 milioni per chiudere conti, il Como ha una nuova proprietà ma già arranca, problemi di liquidità anche per il Mantov e per il Messina, nonostante i tifosi abbiano già sottoscritto quasi mille abbonamenti. A Macerata e Viterbo, questioni i societali al limite, ad Agrigento, Casa dell'Acragas, i massimi dirigenti hanno dichiarato di non essere più nelle condizioni di reggere il peso della Serie C. A Fondi, il main sponsor ha fatto le valigie, a Catanzaro, società in vendita e corsa contro il tempo per mettere insieme una nuova cordata che possa rilevare il club e perfezionare la domanda di iscrizione. E poi c'è Latina, che ha già lasciato il posto, Casella, che potrebbe essere riempita dalla Vibonese, che ricorrerà al collegio di garanzia del CONI, ed eventualmente anche al TAR, per riavere il titolo sportivo di Serie C. Ambisce a ripescaggio e invece rende, insomma, un'ecatombe annunciata, come in ogni estate, calda, caldissima, anzi, incandescente. Alessio Buompasso, per la CINUS24.